Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video dedicato alle Monster Allora, cosa succede oggi? Perché? Scusate, trema tutto Ancora Scusate, trema tutto Allora, perché questo titolo? Dite addio alle Monster LOL Perché queste belle bamboline, bello Dio Queste bellissime Monster ci stanno per lasciare Come mai Tavarinda? Niente, perché una bambina mi ha contattato La mamma di una bambina mi ha contattato Che voleva le Monster e io gliele mando Ovviamente me le ha pagate le Monster, eh? Quello che ho pagato io e io gliele voglio mandare Allora, tanto di Monster ce ne saranno ancora, ancora e ancora Però, siccome ci siamo affizionati a queste sette bamboline Sette Monster Le salutiamo per bene Perché non le rivedremo più Allora, fatevene una ragione pure voi Mi sembrava giusto farlo tutti insieme Ma sto fiocco qua ci sta? O cosa vuol fare? Così è storto Eh, bassotta Così, allora Queste sono le sette Monster Che verranno spedite Allora Mentre quelle che resteranno qua Sono La terza gemella di Shiny Ciao Lei, ragazzi, lei non si può vendere Perché lei è invendibile Perché dalla prima generazione me la devo tenere io Poi E questa è una Poi abbiamo Faccia sfornata, ragazzi Faccia sfornata È già Tra la prima Tra la prima Diciamo Generazione È la seconda È faccia sfornata, ragazzi Cioè, a me mi dispiace che lei ce la faccia sfornata, no? Però io mi sono affezionata a faccia sfornata Veramente Per cui ce la teniamo Poi Infatti queste due sono invendibili Queste due qua Mi ci sono troppo affezionata Poi Abbiamo Ci è rimasta Lentigine Che comunque È bellissima E Andrà bene per fare It baby Come vi ho già detto È stupenda Per farci it baby E la faremo Tranquilli che riusciremo a farla Non so quando Ma la faremo Poi Aspettate che si posse sempre più in là Perché Non ci stanno dentro Nella Poi abbiamo Faccia sfornata a sinistra Dato una bambina Tamara si chiama sbianca E c'hai ragione Allora La mia monster preferita Perché mi è stato chiesto Ragazzi Io non so qual è la mia monster preferita Allora di queste 5 che mi sono rimaste Forse faccia sfornata Faccia sfornata perché sono Boh non lo so Non è che abbia Cioè se io la tengo così la testa Per un po' di giorni Magari non è più faccia sfornata Magari ho detto Non è Non lo so Anche la Anche la sorellina qua di Harley Quinn Sbianca Non è male Non è malvagissima Va bene Invece Allora queste sono queste Che mi rimarranno Le 5 monster Adesso vediamo Salutiamo Quelle che ci lasceranno Allora Ci lascerà Intanto Trauma Ragazzi Io mi sono affezionata Anche a trauma Com'è possibile Che mi affeziono Alle monster lol Non è possibile Tavara Eppure Ci sono affezionato Ragazzi Vi dirò di più Sono più affezionata Alle monster Che alle lol normali Perché? Boh Perché non sei normale Vabbè Ragazzi Trauma Con questi occhioni Traumatizzati La salutiamo Ciao trauma È stato veramente Un piacere Conoscerti E ci dispiace Che te ne vai Però è così Poi Ma ne arriveranno Altre di trauma Ne arriveranno Altre di 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 bassotte Guardate quanto è carina Bassotta È bellissima Bassotta Anche lei Ci sta lasciando Sì Poi c'è Limbo Che aveva i vestiti Più belli In assoluto Che abbia mai visto Per le monster Anche se gli stivali Mi sa che Sono al contrario Cara la mia Limbo Eh Come mai C'avevi gli stivali Al contrario Fammi capire Dove sei andata Che ti sei messo Gli stivali Al contrario È andata A ubriacarti Guardate Che bei vestiti C'è Limbo Ragazzi Speriamo Di ribeccarli I stivali Perché sono Veramente Il top Del top Sissivari È la tutina Anche Dai Limbo Era bellina Eh Che gli vogliamo Dire al limbo Cioè No Allora L'outfit È bellino Sta per piovere Un'altra volta L'outfit È bellino Lei Sì Era un po' Tagliata Qua e là Però Insomma Ci siamo Affezionati Anche al limbo Poi Che abbiamo Ancora qui Cine rentola Dei poveri Cine rentola Dei poveri Era carinissima Anche lei In confronto A Questa Che era Della prima Generazione Cioè La differenza È netta Ragazzi È Dalla prima Generazione Alla seconda Forse la terza Perché Qua si parla Di quelle più basse Per cui Quelle più basse Sono già La terza Generazione Mentre Lì Mentre Faccia sfonnata Non è bassa Vedete Non è bassa Come Come Cine rentola Delle monster Ma È Della seconda Generazione Prima Generazione Seconda Generazione E poi Vengono Tutte le terze Generazioni Vabbè Allora Cine rentola Anche era carina Per carità Salutiamo anche Cine rentola Ciao Bella Poi Che abbiamo Ancora Qua Bassot L'abbiamo Salutata Oh Ma Su cerchietto Ci ha rotto Bassot Ci ha rotto Però Vuol star su O non Vuol star su Poi abbiamo Storta Da ragazzi Storta Ma quanto è carina Questo ciuccio Nero In bocca Sì È un po' Storta Per carità Anche Il vestitino Era bellino Le scarpette Credo che non siano le sue No Non sono le sue Perché lei Aveva gli stivaletti gialli Sono stati utilizzati Grazie Storta Di avermi prestato I tuoi stivaletti E E niente Ragazzi La salutiamo Anche Storta Ciao Storta È stato È stato bello Conoscerti Ecco Poi abbiamo Double Color Beh ragazzi Double Color È una delle new entry Lo sapete C'ha questo vestitino Che proprio Non le sta Beh I stivali a cacarella Cioè È la firma Delle Monster Che lei Ha gli stivali Firmati Monster Come ce li ha Faccia sfondata A sinistra Come ce li ha Lentigine C'è questo qui Questo qui È il colore Firmato Monster Questo qua E come ce l'ha Chiodi in testa Ehm Come si chiama Chiodi in testa Due Ragazzi Anche chiodi in testa Ci sta rilasciando Un'altra volta Speriamo che Arriverà un'altra Di chiodi in testa Magari la tre Così avremo un'altra Chiodi in testa Allora Stavamo dicendo Di double color Cioè Double color Dal collo in su Niente da dire Cosa gli vogliamo dire? Niente Sì certo C'è un po' di Oddio Si è truccata un po' In una qualche maniera Però Niente da dire Dal collo in su Dal collo in giù C'è l'outfit Che lascia un po' A desiderare Però Va bene Ti salutiamo Anche a te Double color C'è stato Un piacerissimo Per carità Conoscerti Anche a te Queste C'hanno le Le cocce Fori E poi Niente Per ultima Viene la nostra Chiodi in testa Chiodi in testa La prima Ci ha già lasciati Un po' di tempo fa Questa è la sua Guardate quanto è carina Chiodi in testa Ragazzi Cioè guardate Che in faccia È bellissima È una delle più belle In faccia Se non la più bella È la più bella Chiodi in testa Guardate Allora Guardate Mamma mia Sti cerchietti Dele monster Non ci vogliono Proprio stare Allora In viso È la più carina La lentigine La Che ho di in testa È la più carina Anche double color Però Dai E niente ragazzi Questo era Allora La mia preferita Non lo saprei Ragazzi Non saprei Quale è la mia preferita Perché Insomma La monster family Come ha detto Una ragazza È la monster family Cioè io Sono affezionata A tutte Certo Quelle più vecchiotte Sono più affezionate Perché sono state Più tempo con me Per carità Però Anche quelle nuove E più ci sono Quelle che sono state Già Sono già andate via E vabbè Ma qui c'è un riciclo Non è che possono Fossilizzarsi qua Da me Cioè È un giro C'è un via vai Di monster Chi va Chi viene Chi torna Chi ci saluta Chi rimane E così Così Come 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 Le famiglie normali C'è chi si ne va C'è chi torna Ciao Come stai Poi Poi si ne arriva E poi Lasciate stare i capelli Lasciate stare i capelli Che non mi piacciono Per quello che l'ho chiamato Chi odì in testa Ma ma se tu gli togli i capelli No Gli colori il vestito Gli colori gli stivaletti Cioè Cosa viene fuori La figa della madonna Viene fuori qua Cioè Cioè Viene bellissima Sta Stacchio di testa Viene fuori Bellissima Vabbè Ragazzi Direi che Lei è la mia Preferita Perché è la più bella Di tutte Secondo me Mentre Quella a cui Sono più Affezionata Questo è l'ego Affezionata Affezionata Diciamo Un po' a tutte Un po' a tutte Non ce n'è una Che Sono affezionata Di più Una che Sono affezionata Di meno Allora Ricapitoliamo La stelza Gemella Morta Di Shining La rivedrete Presto In qualche video Spacchettamento Monster Faccia Sfonnata Ragazzi Ecco Forse Sono più Affezionata A loro Due Perché Sono le più Vecchie Sono più Da tempo Qui con me Faccia Sfonnata La rivedremo Anche lei Poi abbiamo Lentigine Anche lei La rivedremo Presto La Sorellina Di Harley Quinn Ovvero Sbianca E poi Abbiamo Faccia Sfonnata Sinistra E anche Loro Due Le rivedremo Quando ci saranno Nuovi Spacchettamenti Monster Per adesso Non ce ne saranno Perché non ho Le monster Da spacchettare Le ho Ordinate Come vi ho Detto Ma mi Devono Arrivare Queste Le rivedremo Tutte Ok Mentre queste Ragazzi Le risalutiamo Di nuovo Le risalutiamo Di nuovo Poi le farò Le foto Le metterò Sul Sul diario Delle lol E scriveremo Sotto I nomi Che avevano Le nostre Monster Ciao Trauma Ciao Ve ne andrete In una casetta Più bella Limbo Ciao Bassotta Ciao Sei felice Bassotta Di andare In un'altra Casa Non lo so Perché non so Che casa è No ma vai da una bambina Che vuol giocare Con voi Allora Sì Dai Così andiamo a giocare Che bello Sei contenta La bel color Sì Sì Oddio Ho un po' D'ansia Ne L'ansia Sei una bambola Che ansia Vuoi avere E vabbè Non posso Aver l'ansia Sì Vabbè C'è qualcosa Che non va A te Io sono contenta Di andare Da una nuova bambina A giocare Sì Dai Anch'io Sì Che bello Poi salutiamo Appunto Double color Salutiamo Cenerentola De Monster Anche te Cenerentola Bellina Sei Ma storta Ragazzi Ma quanto è Bella storta No Bella storta Non è Però Ha un suo Perché anche Storta E le vogliamo Bene Ciao Storta Ciao Ci rivediamo Non credo Storta Che ci rivedremo Però Noi Noi Sappiamo Che sei esistita Sappiamo Che ci sei stata E basta E basta E poi abbiamo La nostra Chiado in testa Numero 2 La più bellina Di tutte No Il viso è bellino Ragazzi Che ve lo ridica Cioè Il viso è proprio Bello Strano Ma Non ho fatto Una Monster Che ragazza È decisamente Bella Allora Io vi saluto Con le mie Sette Bimbe Che ci salutano Tutte E niente Ragazzi Salutatele Anche voi E Vediamo Se riusciamo A inquadrarle Tutte Eccole qua Salutatele Anche voi E state felici Per loro Perché vanno a giocare Da una bambina Vanno a giocare Insieme a una bambina E Alla prossima Ciao